In un piccolo quartiere, a ovest di Washington Square, le strade sono impazzite e si sono spezzettate in piccole lingue chiamate larghi. Questi larghi fanno degli strani angoli e curve. Una strada si incrocia con se stessa in una o due occasioni. Una volta un artista coprì in questa strada un'utile opportunità. Immaginate che un collezionista con un conto da pagare per colori, carta e tela, nel passare per questa via, possa all'improvviso incontrare se stesso di ritorno, senza aver pagato un centesimo in acconto. Così, nel pittoresco vecchio Greenwich Village, di lì a poco gli artisti arrivarono, aggirandosi per le strade, alla caccia di finestre che davano sul nord e di tetti a due spioventi del diciottesimo secolo e di attici olandesi e di affitti bassi. Poi introdussero dalla sesta evnio dei boccali di peltro e un paio di scalde vivande, e diventarono una colonia. Sue e Jonesy avevano il loro studio al piano superiore di una tozza casa di mattoni a tre piani. Jonesy era il diminutivo di Johan. Una era del Maine, l'altra della California. Si erano conosciuti al tabledote del Monicos, sull'ottava strada, e avevano trovato i loro gusti in arte, in salata di sicorio e maniche a sbuffo, così affini che ne era scaturito allo studio in comune. Fu in questo maggio. In novembre, un freddo invisibile straniero che i dottori chiamavano Polmonite si aggirava per la colonia, toccando quella qualcuno con le sue dita ghiacciate. Laggiù, sul lato est, questo devastatore procedeva in maniera sfrontata, colpendo le sue vittime a mucchi. Ma tra il labirinto dei larghi, stretti e muscosi, i suoi passi si muovevano con lentezza. Mister Polmonite non era quello che si definirebbe un vecchio gentiluomo cavalleresco. Uno scricciolo di donnina, con il sangue indebolito dagli zeffri della California, non era di certo un gioco leale per un vecchio pataccaro dai pugni rossi e il fiato corto. Ma lui colpì Jonesy, e lei giacque, nel suo letto in ferro battuto pitturato, muovendosi a stento, guardando il muro a tinta unita della casa di mattoni adiacente, al di là del vetro della piccola finestra olandese. Una mattina, l'indaffarato dottore, invitò sue nell'ingresso, con un sopraccidio triste e arruffato. «Ha una possibilità su, diciamo, dieci», disse lui, mentre scuoteva il mercurio del suo termometro clinico abbassandolo. In questa possibilità è la sua volontà di vivere. Questo modo che la gente di mettersi in fila per l'impresario di pompe funebri fa sembrare l'intera farmacopea una cosa sciocca. La sua donnina ha deciso che non si rimetterà. È in pensiero per qualcosa. «Lei, lei voleva dipingere la baia di Napoli un giorno», disse sue. «Dipingere? Ciocchezze! È forse un pensiero per qualcosa per cui vale la pena di pensarci sopra due volte. Un uomo, per esempio?» «Un uomo», disse sue, con il suono metallico di uno scacciapensieri nella voce. «Un uomo vale forse...» «Ma no, dottore, non c'è niente del genere!» «Beh, è solo la debolezza, allora», disse il dottore. «Farò tutto quello che la scienza, fino al punto dove può arrivare tramite i miei sforzi, può compiere. Ogni volta che il mio paziente comincia a contare le carrozze nella sua processione funebre, io sottrago il 50% della capacità curativa dei medicinali. Se riuscirà a farle fare una domanda sul nuovo modello di maniche per l'inverno 21, le prometto una possibilità su 5 per lei, invece di una su 10». Dopo che il dottore se ne andò, Sue andò nel laboratorio e pianse su un tovagliolo giapponese fino a ridurlo in poltiglia. Poi entrò impettita nella stanza di Jonesy con la sua tavoletta di legno, fischiando un ragtime. Jonesy era distesa, creando a stento un solco sotto le coperte con la testa rivolta alla finestra. Sue smise di fischiettare, pensando che stesse dormendo. Sistemò la sua tavoletta e cominciò un disegno a penna per illustrare una storia per una rivista. I giovani artisti devono spianarsi cammino nell'arte disegnando immagini per le storie di riviste che i giovani autori scrivono per spianarsi cammino alla letteratura. Mentre Sue stava schizzando un paio di eleganti pantaloni d'equitazione da concorso ippico e un monocolo sulla figura dell'eroe, un cowboy dell'IDAO sentì un suono debole, ripetuto a svariate volte. Andò l'esta al capezzale. Gli occhi di Jonesy erano spalancati. Stava guardando fuori dalla finestra e cantando, contando a rovescio. «Dodici», disse. E poco dopo, undici. E poi dieci e nove. E poi otto e sette, quasi allo stesso tempo. Sue guardò con attenzione fuori dalla finestra. Cosa c'era da contare? Da vedere c'era solo un cortile triste e spoglio. E a venti piedi di distanza il muro a tinta unita della casa di mattoni. Una vecchissima edera rampicante, deformata e marcia alle radici, saliva fino a metà del muro di mattoni. Il respiro freddo dell'autunno aveva strappato le foglie rampicante, al punto che i suoi rami, ridotti al minimo, quasi nudi, si aggrappavano ai mattoni sgretolati. «Cosa c'è, cara?» Domandò Sue. «Sei», disse John C. quasi con un sussurro. «Adesso stanno cadendo più in fretta. Tre giorni fa ce ne andranno quasi cento. A contarle mi è venuto mal di testa. Però adesso è facile. Ce ne va un'altra. Adesso ne sono rimaste solo cinque». «Cinque di cosa, cara? Dillo alla tua Sudi». «Di foglie?» «Sull'edera?» «Quando cadrà l'ultima, me ne dovrò andare anch'io». «Lo so da tre giorni. Non te l'ha detto, il dottore?» «Oh, io di stupidaggine di questo genere non ne ho mai sentite», si lamentò Sue con un magnifico dileggio. «Cosa hanno a che fare delle vecchie foglie d'edera con la tua guarigione?» «E ti piaceva talmente tanto quel rampicante di scolaccia?» «Non fare loca, diamine!» «Il dottore mi ha detto stamattina che le tue possibilità di guarire presto erano...» «Vediamo cosa ha detto esattamente. Dieci contro una. Diamine!» «È quasi la stessa possibilità che abbiamo a New York, quando ci va in trammo a piedi, di passare davanti a un edificio nuovo. Cerca di mangiare del brodo adesso e lascia tornare Sudi al suo disegno, così lo può vendere al caporedattore e con quello comprassi il porto per la sua bimba malata e le bracioli di maiale per la golosona. «Non hai più bisogno di prendere il vino», disse Johnsy tenendo gli occhi fissi fuori della finestra. «Se ne va un'altra?» «No, non lo voglio, il brodo. Ne restano solo quattro. Voglio vedere cadere l'ultima foglia prima che diventi buio. Poi me ne andrò anch'io». «Johnsy, cara», disse Sue, chinandosi su di lei, «mi prometti di tenere gli occhi chiusi e di non guardare fuori dalla finestra finché non ho finito di lavorare? Devo consegnare questi fogli per domani. Ho bisogno della luce, altrimenti disegnerai l'ombra». «Non potresti disegnare nell'altra stanza?» chiese Johnsy con indifferenza. «Preferirai stare qui accanto a te», disse Sue. «Inoltre non voglio che continui a guardare quelle sciocche foglie d'edera. Non appena hai finito, informami», disse Johnsy, chiudendo gli occhi e restando bianca e immobile come una statua caduta, «perché voglio veder cadere l'ultima. Sono stanca di aspettare. Sono stanca di pensare. Voglio allentare la presa su ogni cosa e la sarmi velezzare giù, proprio come una di quelle povere, stanche foglie». «Cerca di dormire», disse Sue. «Io devo chiamare Berman perché mi faccia da modello per il vecchio minatore Eremita. Non starò via che un minuto. Non provare a muoverti finché non torno». Il vecchio Berman era un pittore che viveva al pian terreno sotto di loro. Era oltre i 60 e aveva una barba da Mosè di Michelangelo che scendeva arricciata dalla testa da satiro lungo il corpo da spiritello. Berman era un fallito nell'arte. Per 40 anni aveva maneggiato il pennello senza mai avvicinarsi abbastanza da toccare l'orlo della veste della sua signora. Era sempre stato sul punto di dipingere un capolavoro, ma non l'aveva neanche mai cominciato. Da svariati anni non dipingeva nulla, tranne di tanto in tanto una crosta per la pubblicità o per il commercio. Guadagnava un po' facendo da modello a quei giovani artisti nella colonia che non potevano pagare il prezzo di un modello di professione. Beveva gine all'ezzesso e parlava ancora del suo prossimo capolavoro. Per il resto era un vecchietto insopportabile che derideva tremendamente la dolcezza in chiunque e che si considerava uno speciale mastino in attesa di proteggere le due giovani artiste dello studio di sopra. Sue trova Berman che puzzava forte di bacche di ginepro nella sua tana maleilluminata di sotto. In un angolo era una tela bianca su un cavalletto che se ne stava lì in attesa di ricevere il primo tratteggio del capolavoro da venticinque anni. Gli raccontò della fantasia di Jonesy e che aveva paura che lei veramente, leggere fragile come una foglia, si facesse portare via dalla corrente una volta che si fosse indebolita la sua lieve presa sul mondo. Il vecchio Berman, con gli occhi rossi, visibilmente in lacrime, urlò il suo disprezzo e il suo scherno per questo genere di fantasie idiote. Fessaccini, gridò. Per caso, c'è cento al mondo che fa la scemenza di morire perché catono le foglie da una dannata edera. Mai sentita una roppa simile? Non possero più per te come modello per il tuo matto di un fecchio minatore rimita, testona. Com'è potuto permettere che quella stupitaccine essere entrata in tua testa? Ah, povera, piccola Mrs. Jonesy. È molto malata e debole, disse sue, e la febbre gli ha lasciato il cervello malato e pieno di fantasie. Molto bene, disse Berman. Se non le interessa di posare per me, non è tenuto. Ma credo che lei sia un orrendo, vecchio, vecchio farfallone. Tipico di una tonna, bretto Berman. Chi ha detto che non poserò? Fai affanti, fengo con te. È da mezz'ora che cerco ti dire che sono pronto a posare, gott. Questo non è posto in cui una così prafa come Mrs. Jonesy restita malata. Un giorno ti pincerò un capolavoro e andremo tutti via, gott, già. Quando salirono di sopra, Jonesy dormiva. Sue abbassò la tendina della finestra e fece cena a Berman di andare nell'altra stanza. Lì si misero a scrutare fuori della finestra, con timore, il rampicante dedera. Poi per un momento si guardarono, senza parlare. Cadeva una fredda pioggia persistente, mista a neve. Berman, nella sua vecchia camicia blu, si sedette al proprio posto, nelle vesti di minatore e remita, sopra un bollitore capovolto che faceva da roccia. Quando la mattina dopo, Sue si svegliò dopo un'ora di sonno, trovò Jonesy con otti spenti e spalancati a fissare la tendina verde tirata. «Tirala su, voglio guardare», ordinò con un sussurro. Sue ubbidì, stremata. Ma pensa un po'. Dopo la pioggia battente e le furiose raffiche di vento che erano durate per tutta la santa notte, contro il muro di mattoni c'era ancora una foglia d'edera. Era l'ultima, non rampicante. Ancora verde scura vicino allo stelo. Ma con le estremità dentellate, tinte del giallo della decomposizione della rovina, vendeva coraggiosamente da un ramo a una ventina di piedi da terra. «E' l'ultima», disse Jonesy. «Pensavo che fosse caduta di sicuro durante la notte. Ho sentito il vento. Cadrà oggi, e insieme cadrò anch'io». «Cara, cara», disse Sue, appoggiando il viso esausto sul cuscino. «Pensa a me, se non vuoi pensare a te stessa. Io, che farò?» Ma Jonesy non rispose. «La cosa più sola di tutto il mondo è un'anima quando è sul punto di prepararsi per andarsene nel suo misterioso, remoto viaggio». La fantasia sembrava possederla più fortemente, mentre l'uno dopo l'altro, i vincoli che la legavano all'amicizia e alla terra, si allentavano. Il giorno si consumò, e anche attraverso il crepuscolo poterono vedere la foglia solitaria d'edera che si aggrappava al suo stelo contro il muro. E poi, con l'arrivo della notte, si scatenò di nuovo il vento da nord, mentre la pioggia continuava a battere contro le finestre e a tamburellare in basso dalle gronde olandesi. Quando diventò chiaro a sufficienza, Jonesy, l'inesorabile, ordinò di alzare la tendina. La foglia d'edera era ancora lì. Jonesy restò a guardarla a lungo, e poi chiamò Sue, che stava mescolando il suo brodo di pollo sul fornello a gas. «Sono stata cattiva, Sudy!» disse Jonesy. «Qualcosa ha fatto restare lì quell'ultima foglia, per dimostrarmi quanto sono stata malvagia. Desiderare la morte è un peccato. Puoi portarmi un po' di brodo adesso e del latte con un po' di porto dentro? Eh no, portami uno specchietto e poi sistemami dei cuscini intorno, che mi alza a sedere per guardarti cucinare». Un'ora dopo disse «Sudy, un giorno spero di dipingere la baia di Napoli». Il dottore venne nel pomeriggio e mentre se ne andava via, Sue trovò una scusa per recarsi nell'ingresso. «Le probabilità sono pari», disse il dottore, prendendo l'esile mano di Sue nella sua e stringendola. «Con una buona assistenza vincerà. Adesso devo vedere un altro caso che ho al pian terreno. Berman si chiama. Una specie di artista, credo. Anche lui, polmonite. «È un uomo anziano, debole, e il suo attacco è grave. Non c'è nessuna speranza per lui. Però oggi andrà all'ospedale perché stia più tranquillo». Il giorno dopo il dottore disse a Sue «È fuori pericolo. Avete vinto. Alimentazione e assistenza adesso. È tutto». In quel pomeriggio a Sue si avvicinò al letto dove stava Giozzi, che con soddisfazione stava facendo un azzurrissimo e inutilissimo scialle di lana a maglia e abbracciò lei, i cuscini e tutto quanto il resto. «Ho una cosa da dirti, Topolino», disse. «Mr. Berman è morto oggi di polmonite, in ospedale. Era malato solo da due giorni. Il custode l'ha trovato la mattina del primo giorno nella sua stanza al pian terreno senza forza e sofferente. Le sue scarpe e i suoi vestiti erano fradici e ghiacciati. Non riuscivano a immaginare dove avesse passato una nottata così terribile. E poi hanno trovato una lanterna, ancora accesa, e una scala, che aveva trascinato fuori dal suo appartamento, e dei pennelli sparpagliati, e una tavolozza, con i colori verdi e gialli mescolati sopra. E... Guarda fuori dalla finestra, cara, l'ultima foglia di edera sul muro. Non ti sei domandata perché non svolazzava mai? E non si muoveva quando il vento soffiava? Ah, tesoro! Questo è il capolavoro di Berman? La dipinta lì, la notte in cui è caduta l'ultima foglia.